Perchè siete venuta qui? Perchè credevo, pensavo che vi avrebbe fatto piacere di vedermi. Non volevo vedervi. Kira! Non ve n'è andata. Andrei, non vi capisco. Non volevo dirvelo. Ho fatto di tutto per non vedervi più. Perché? Perché vi amo. No, non parlate. Quello che volete dire l'ho detto a me stesso tante e tante volte. Lo so, ha distrutto le nostre amicizie. Quando siete entrata volevo mandarvi via. Ma sentivo se lo avrei fatto vi sarei corso dietro quelmente. Non volevo dirvi niente e ho pensato che vi avrei detto tutto. Via Kira. E forse ora voi mi odiate. Perchè dovrei odiarvi, Andrei? Non avreste dovuto venire. Non sono vostro amico, non mi importa di farvi del male. Una sola cosa mi spinge verso di voi. Il mio desiderio. Andrei, io non saprei. Non volevo che sapeste. Ho cercato di starvi lontano e di vincermi. Ho anche pensato che avrei potuto arrestarvi, portarvi dove volevo e prendervi. Non sapete quello che avete fatto di me. Giorni fa ho perquisito una casa, c'era una donna. L'abbiamo trovato addosso dei documenti. Si dibatteva sul pavimento nella sua camicia da notte chiedendo grazie. Ho pensato a voi lì, sul pavimento nella vostra camicia da notte chiedendo pietà. Come io ne ho chiesto a voi per tanti mesi. Ebbene, le risi in faccia e le diedi un calcio. Perché mi guardate così? Andrei. Io non ho niente da offrirvi, neanche la mia vita. Essa rappresenta tanti anni di un lavoro che voi disprezzate. Voi rappresentate tutto quello che io ho sempre pensato di dover odiare, ma... Non so io, darei. Darei tutto, capite? Tutto. Per qualche cosa che voi non potete dare. Posso? Vi amo, Andrei.